ciao oggi sono tornato nel bosco di cesuna per farvi vedere cosa intendo sempre per biodiversità fungina e mostrarvi qualche specie che forse vi siete persi se mi seguite da poco poiché avendo eliminato il mio profilo instagram adesso il più lo caricherò su youtube quando si parla di funghi ci sono tantissime specie diverse ma non solo per il dna anche per la loro anatomia qui vedete un gastrum gastrum significa stella della terra perché appunto non è certamente una stella nel cielo è un fungo che come le vesce vediamo se succede ancora fa uscire le sue spore come una polvere se vedete visto quel fumo che andava verso la mia mano quelle erano le spore e come le vesce libera la spore a maturazione altri funghi come questo che potete vedere qui invece sono tossici per l'uomo se vedete dei morsi su questi funghi vuol dire che solitamente sono velenosi sono mangiati dalle lumache lumache che in questo periodo si riproducono molto e ciò che è tossico per noi quel fungo probabilmente addirittura mortale perché se non sbaglio è un cortinario magari qualcuno che li conosce meglio può correggermi però i cortinari possono causare intossicazioni anche mortali quindi state attenti a ciò che raccogliete hanno una forma tipica a conica che è condivisa anche con altri funghi velenosi a volte anche allucinogeni un altro tipo di fungo sono questi qua questi qua sono i funghi che formano il cerchio delle streghe se partiamo da qui possiamo procedere da questa parte poi più in là e infine dietro di me questo viene chiamato cerchio delle streghe o cerchio delle fate perché si pensava nell'antichità che qui esattamente dove sono io in mezzo al cerchio venissero eseguiti dei rituali per evocare degli spiriti altri funghi che accomunano un po' tutto il regno di viventi mondo dei viventi sono i licheni i licheni sono simbiosi tra funghi e alcuni altri organismi come per esempio i cianobatteri i licheni sono molto importanti perché formano delle associazioni come vedete qui con il muschio e contribuiscono anche allo smaltimento di materia vegetale deceduta come per esempio questo ramo vi lascio con questa fantastica vista del bosco di Cesuna e ci vediamo alla prossima ciao